questa lo sappiamo è la settimana della Giulia quindi qui a Verona non potevo non omaggiare la Giulia che secondo me è la più bella di sempre ovvero la SS prodotta tra il 59 e il 66 in motorizzazione 1.300 come Giulietta o 1.600 che sono tutte 1.600 queste due dal 63 questa secondo me è l'esercizio di stile di Bertone tra i più magnifici guardate che linea morbida sinuosa poi ai lati si allarga e si chiude compatta ma molto filante al posteriore eccellente qui abbiamo appunto 2006 il motore è quello della Giulia sprint veloce 112 cavalli se non erro carburatori Weber da 40 i fregni a disco mentre la Giulietta che è la sorella più piccola con il 1.300 aveva i quattro tamburi questa è in rosso alfa e questa in bluet le quadrazioni di queste auto chiaramente come tantissime alfa negli ultimi anni sono lievitate si va ben oltre 100.000 euro qui per questo esemplare che è un uniproprietario targhe originali documenti originali Torino si va anche a 150.000 euro magari andate e e e Grazie.